E poi dobbiamo farvi vedere una cosa Vedete che bellini Sono piccolissimi Sono piccolissimi L'ho fatto qui in continuazione Vedete com'è bello quello E soprattutto vorrei che svediate Solo vedere tutto questo video per favore Questo video, fai vedere il link Non penso che lo capiscono Scrivilo tu in stampatello Allora, scriverò il link Ah, comunque l'avevo scritto SC16S 053 Per favore, un attimo E il nome del video è La cucina Cucina? Sì, la cucina Dove siamo stati a fare quegli bracchi La cucina di Efesto La cucina di Efesto E La nascita Della robotica Della robotica No, non si fa No, non si fa Allora, 8, 5, 6 No, S Ah SC Aperto SC16 S S No, O O Scusate Lo ripetiamo SC I Uno Allora Noi mettiamo sempre qui sotto Nel link Il link Nel link Lo potessi vedere che si vede Allora Basta Basta Vederlo Vedere Il video E soprattutto A chi piace A chi è piaciuto il video Metta un like Noi lo metteremo il like Vedere Il V Video 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 E Mettere Mi piace Ecco Penso che Mettere mi piace Ok, perfetto Allora Per favore Al limite Se non vi è piaciuto il video Potreste vederlo Tutto Perché Importano In questo concorso In cui sta facendo Quelli del video Della mia scuola Le visualizzazioni E soprattutto I like Io spero Che vi mettete Una marea Di pollicioni in su E soprattutto Che vedete Tutto il video Quindi Vi lascio qui A vedere I miei piaciolini Nel mio acquario E vedete L'angolo Adesso faremo La challenge Successivamente Se ridi Perdi Con il mio Telefono Che adesso Farò vedere Che adesso